Ciao, volevo dirvi che questo video è dedicato a delle persone che mi conoscono e che puntualmente aspettano un mio video. Io stasera ho scelto questo pezzo per voi, per gli amici di Cerigloma. Vai! Ciao e alla prossima. Spero che sono stato di vostro gradimento e se qualcosa potete anche giudicarmi. Ciao.